Il ministro va benissimo Ministra un saluto Presidente un saluto grazie Buongiorno Presidente buongiorno Presidente un saluto Presidente un saluto Presidente un saluto e cari amici della Gruppo Commercio, buon giorno e benvenuti. Innanzitutto il nostro grazie più sentito al Presidente Sergio Mattei. La sua presenza per noi è davvero un grande onore. L'Italia europea significerebbe oltre due milioni e mezzo di donne occupate in più. L'Italia è fondata sul lavoro che è strumento decisivo di inclusione dei cittadini di oggi, di quelli di domani e di coloro che oggi non sono ancora cittadini. E nei soli settori del commercio, degli alberghi, dei pubblici esercizi, la quota di lavoratori stranieri regolari è pari ad oltre il 10%. È un tema nazionale un tipo stesso europeo, serve alle attese del mondo del lavoro, ma alle attese delle imprese. È un buon contratto perché interpreta le trasformazioni profonde del nostro tempo. È un buon contratto perché è espressione concreta di responsabilità e viene applicato nel 2023 da oltre il 93% delle aziende italiane del terziato.